Chiamo Marco Morbidoni, sono il titolare socio insieme al mio fratello della Icon SNC. Ci occupiamo di sicurezza, nasciamo come installatore di linea vita, quindi nel mondo della sicurezza anticaduta. Poi negli anni ci siamo, tra virgolette, sviluppati un po', abbiamo fatto esperienza nel settore della sicurezza, abbiamo aperto un centro di formazione e addestramento, una palestra formativa per fare corsi, quindi ci siamo specializzati un po' anche sul settore corsi. Da Faraone abbiamo acquistato maggiormente la scala SVS, la cosiddetta scala alla marinara, con gabbia di protezione, perché spesso inerente, tra virgolette, che si collega poi al nostro lavoro, ci capita spesso di lavorare in ambienti industriali, quindi per salire in quota sulle coperture ci richiedono l'installazione della scala alla marinara con gabbia. Devo dire che è stata un po', tra virgolette, una svolta positiva per il nostro settore, perché ci è capitato, ad oggi devo fare una parentesi piacevole, nel senso che gli installatori tutt'oggi mi dicono che vogliono montare sullo scale da Faraone, prima trattavamo magari diversi fornitori. Il responsabile di tutto questo è il vostro rappresentante Fabio Giorgetti, che una volta che l'abbiamo conosciuto, vuoi per la sua professionalità o per la sua simpatia, siamo coetani, quindi ci è stata subito intesa, ci è stato dato un rapporto di fiducia. Con le prime installazioni noi cercavamo comunque un prodotto di qualità, perché abbiamo fatto lo stesso discorso per quanto riguarda il mondo delle linee vita. Abbiamo ricercato un prodotto di qualità, quindi non puntare esclusivamente su un prodotto economico, ma puntare su un prodotto che faccia la differenza. E quindi questo penso che sia stato il passo che ci ha fatto fare un pochino uno slancio in ambito su questo settore. Io parlando con i ragazzi, quando vanno ad installare, l'ho potuto constatare anch'io personalmente, proprio una volta installato un senso di sicurezza, lo trovi un senso, senti proprio un senso di protezione, avverti che c'è una sicurezza in più, tra virgolette, lo senti più spessa, più forte, quindi anche all'occhio rimane molto bella anche a livello estetico, per cui se è installato questa cosa, ci è capitato ormai, penso ne abbiamo installate parecchie decine, di Scala da Marinara e niente, adesso speriamo anche di poter installare anche altri tipi di prodotto, come ci è capitato magari la settimana scorsa. E' un mondo, questo delle scale, bello, spesso mi capita di confrontarmi con Fabio o direttamente con Franco, quando esco, diciamo, dalla Scala da Marinara per avere qualche consiglio, alla richiesta di preventivo, a un qualsiasi tipo di informazione, ho trovato subito una risposta pronta, veloce, sinonimo di professionalità, di qualità, che poi adesso con gli anni, magari conoscendo tante persone nel settore, la Faraone ad oggi viene riconosciuta come la Scala top, perlomeno io su quello che mi dicono la Scala da Marinara, mi dicono è la Faraone, la Scala top. Sono ben fiero di poter installare questo tipo di scale. Le scale S.V.S. vengono scelte principalmente per accedere in copertura, soprattutto in ambienti industriali, laddove magari è richiesta una manutenzione sulla copertura, vuoi per la presenza del fotovoltaico, vuoi per la presenza di manutenzioni varie in copertura. Spesso ci sono delle situazioni che non esiste un accesso diretto alla copertura, per cui i vari responsabili della sicurezza ci richiedono l'accesso alla copertura tramite una scala verticale con gabbi di protezione. Ho conosciuto Faraone tramite rappresentante di zona, signor Fabio Giorgetti, è stato dato subito un rapporto di fiducia ed oggi posso dire anche di amicizia. È sempre disponibile, mi capita spesso di rompergli le scatole anche durante i giorni magari non lavorativi. Ho trovato da parte sua sempre disponibilità, anche perché purtroppo ad oggi si vive in un mondo di un'emergenza continua, quindi ti arrivano richieste anche nei giorni più assurti. E ho trovato in Fabio, in Fabio e in Franco, poi di conseguenza una risposta sempre pronta e professionale. Di Faraone apprezzo la qualità del prodotto, apprezzo la qualità dell'installazione, perché comunque si installa molto bene e molto velocemente. Mi riferisco in particolar modo alle scale alla Marinara. Tra la qualità del prodotto, devo dire che una volta installata apprezzo proprio il senso di protezione, di robustezza che ti dà la scala. Da diverso tempo a questa parte ho trovato il configuratore Faraone, con cui poi mi rigirano le offerte e il relativo disegno con le relative quote. Il rappresentante ho trovato una qualità enorme perché comunque in breve tempo si è in grado di fornire al cliente non solo un'offerta economica, ma anche un'offerta con un elaborato grafico, quindi con un aspetto visivo che il cliente può confrontare, può vedere, quotare la scala in rapporto al suo caso. Quindi io direi che il configuratore mi ha davvero impressionato per la qualità. Grazie a tutti.